Grazie a tutti 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 Forza Bravo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Salto Grazie a tutti 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 Vai Matti Grazie a tutti Vai fuori Grazie a tutti 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 Dai Fede Grazie a tutti Grazie a tutti Vai Vai fuori Vai fuori Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vai fuori Grazie a tutti 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 Dai Fede Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vai su Grazie a tutti Andrea Vai 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 continuo a patinare verga bravo alle ma io faccio un bel d'amico vai Samu, vai Samu c'è anche il vestito lì di andare con la mano sola che guarda invece dobbiamo patinare con i piedi e avere due mani sulle stecche dai 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 non state fermi vabbè è il doppio è il doppio di lui brava lice brava brava lice dai ragazzi non vogliamo dai subito dai subito dai subito dai subito non c'è nessuno dai subito dai subito in mezzo ma bisogna che la passano però perché se non se la passano non la può passare ma la davanti non c'è nessuno dai subito dai dai sulla bandiera dai subito Deve passarlo subito! Siamo più lenti, poco da fare. 5 secondi. dai passiamo solo da vedere secondi eeeh dai 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 bravo bravo dai ragazzi forza ho amaro ho buttato via ho perso il gioco dai 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 passa bravo andrea dai 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 preparati dai 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 sai dai dai ai dai 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 allora, il portiere non si tocca dacci con le spalle ma il portiere non si fanno l'oro ma si guardiamo dove sono oh Dio Dio dai a lei 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 uomo dai a lei dai a lei dai ragazzi forza scomed non devi venire in qua dai 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 bravo 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 dai 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 non c'è mica di spalla dai perga attenti dietro che ce ne sono due dietro dai subito vabbè tutte sulla chiatta io faccio da mangiare siamo in diretta nazionale a settembre si deve fare tra la piatta a settembre la piatta ma io prima non vedo mica tanto tempo ma anche a settembre ci abbiamo già anche lo stesso perché oggi siete impegnate io stavo parlando gli avvengers sono l'infiniti war att o l'infiniti war grazie a tutti grazie a tutti